La devozione al rosario in San Vincenzo Ferreri Scrive il Beato Adano della Rope che San Vincenzo Ferreri, lucerna della famiglia dei predicatori e colonna di Valencia e tanto più di Spagna, fu fin dalla tenera età singolare devoto della Madre di Dio fino allo stupore. Quanto poi al genere prescelto del culto mariano di questo frate predicatore, quello prediletto fu il rosario di Maria. Con la forza e l'efficacia del rosario non solo sconfisse le tentazioni pesanti e continue, ma anche riempì la Chiesa di miracoli e meritò di vedere coi suoi occhi e udire assai spesso la Madre di Dio Consonatrice. Quanto timore e meraviglia incuteva questo predicatore dell'estremo giudizio e anche oggi ogni cristiano del mondo lo segue e lo conosce. Ed egli fece tremare con questo solo argomento di predicazione, affidatoli dal medesimo Gesù Salvatore, mentre attraversava in modo particolare l'intera Gallia, la Spagna, la Bretagna, la Scozia, l'Iberia ed Italia. Neanche le città riuscivano a contenere le folle che accorrevano da ogni parte ed erano necessarie le grandi distese dei campi dove sedevano i suoi ascoltatori, mentre egli parlava del giudizio estremo e talvolta lo seguivano diecimila uomini e spesso furono visti affluire da lui fino a ottocentomila uomini per ascoltarlo. Tra gli essi era frequente vedere molti che si prostravano a terra e apertamente confessavano i loro peccati. Tra gli essi anche convertì più di venticinquemila giudei, più di ottocentomila saraceni nella sola Spagna, come anche moltissimi angeli gli stavano intorno, mentre predicava. Capitava spesso poi che egli pur predicando in una sola lingua era come se parlasse le lingue di tutti e lo comprendevano non solo gli ascoltatori che venivano da ogni nazione, ma anche chi stava a considerevole distanza dal momento che nessuna forza della natura era capace di trasportare le parole che diceva, se non fossero state aiutate dal miracolo della grazia. Quasi in continuazione accadevano innumerivoli prodigi, malattie debellate, demoni scacciati e qualsiasi male allontanato, morti restituiti alla vita, cose nascoste, future, lontane e svelate. San Vincenzo aveva tanta forza nel predicare il giudizio, ma ancora di più nel pregare la Madre di Dio nel Rosario. Grazie a tutti.